Ecco la seconda parte della missione di salvataggio di Marvel contro Capcom Infinity. Siamo su X-Guard, una prigione sotterranea. Chris Redfield ha azionato qualcosa? No, 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 è una pessima idea. Ma lo sapete chi è quel prigioniero, ragazzi? Quello è Thanos, il folle titano, che aveva sempre il guanto dell'infinito, usava le gemme dell'infinito. Oh no, chi è che ha fatto scattare l'allarme? Lo so che abbiamo una missione da compiere, ma lo dobbiamo fare. Non ce ne andiamo senza Thanos.